La tavola per lui è uscito con due ragazze Ah è vero, è vero Insomma, questo è un po' di attacchi Grazie, grazie Poi è arrivato a questo video Oh ragazzi, direi che è la stessa cosa se non c'è più su niente Saluta il forum Saluta il forum Anche agli assenti pure se non sono venite retti Saluta Saluta Eh, chiarissima Poi siamo andati all'angicolo Arci Io sono andato a casa E qualcuno ha telefonato a non so chi Chiedere se si stava da bere Ma quella è la casa di qualcuno Ma io non mi ricordo Mi ricordo solo che mi hanno passato il telefono E io parlavo con questa persona Saluta E mi dicevo, vabbè dai, c'è Vignanda a Bologna Non è che non ci puoi dare da bere Ma era rigidissimo perché c'era questa cosa del sindaco C'era l'ordinanza che doveva essere chiusa E a cercare di corrompere c'era anche il che bambaro Che fa blare? Secondo me mi hanno passato il che bambaro Proprio che lo stavo lì fuori Ah no, a me me l'hanno passato per terminare Ma mi stavo lì fuori perché quel localista va a chiudere E allora ha detto, vai che forse questo ci fa entrare E gli ha passato qualcuno al te che poi ci ha parlato la cosa A me, il secondo giorno dopo è arrivato il messaggio di gag Con scritto tipo Ieri mi hai telefonato da qua Grazie a tutti